Sono contento di donarmi in questa occasione, anche se io in genere evito come la penso tutte le manifestazioni che hanno a che fare con l'ottomazzo perché non mi piace da molti anni la ritualità commerciale che si è creata intorno a questo evento ma quest'anno è un anno un po' particolare perché mi avete detto a parlare un po' troppo delle riprende di genere, diciamo così, per utilizzare l'invaso e l'invaso di questa scuola in termini di attività, quindi di donarmi, perché è venuto fuori finalmente quello che è già arrivato qualche anno e la discriminazione strisciante è venuta con il ritorno ai licenziamenti firmati al momento dell'assoluzione con i licenziamenti imposti al momento della naveganza, cosa che diciamo che i ragazzi di lavoro si sapeva ma non veniva lega e non veniva pubblicizzata. Purtroppo è vero che questo accade anche nei miei aziende, questo accade a diversi anni, in altri miei aziende e c'è una questione assoluta. È vero che lo diceva, la società è che l'esercito del potere è una cosa, l'esercito del potere è un stranitario, soprattutto definita nella maniera artile che noi conosciamo, perché è quella che noi conosciamo nella nostra società occidentale, ma è anche vero che, vedo che stanno un po' tornando, che io mi ricordo che conosco, essere marginalizzate anche efficientemente, che ne è anche detto, il soveglio sceglie un posto di lavoro e si rivedisce quello del caso di famiglia che si rivedisce tutto perché deve essere nuovo, le famiglie non sono più quelle di cento anni fa, e sta di nuovo passando questo concetto, è un concetto culturale, previsto dalla legge e dalla Costituzione. Quest'anno, quindi, ho fatto un'eccezione alla visualità perché quest'anno forse la testa di una donna, non ne ho la testa, è diventato un fatto formale. Se ne parli, se ne parli, se ne parli, se ne so anni che si parli nel spazio di donna in questo paese, se abbiamo, per esempio, confiduzione di discutere per il cervello di questo tipo di donna che si è già da una donna, in realtà le opportunità che hanno le donne di fare carriera continuano a essere, di granulare i segnali a quegli uomini, ed è anche vero che le donne continuano a dover salivare i doppi e scrivono il quadro per arrivare allo stesso posto, in cui colleghi a cui si è avvenuto insieme allo stesso posto, anche a parità di questa qualità. continua a essere un'eccezione di questa, penso, un avvio personale osservatorio con la via protezione, quella dei giornalisti, è una protezione che nel corso degli anni della via catiera è andato ogni tanto sotto un fruttosto del genere, è composto ormai quattro in primaverso a chi lo sa donne, ma le donne continuano a non ricoprire il carico di rigenziali se non in maniera marginale, a meno nello strato di settimanale femminile, moda e gossip, continua a essere un'eccezione di la donna che dirige il settore, la donna che dirige il studio di piano, perché è che fa ancora l'edito, cioè se c'è una donna che va a dirigere il giornale, anche se è fatto la giornalista per tutta la vita, continua a fare l'edito, questa cosa invece non dovrebbe essere, dovrebbe essere un automatismo di carriera, diciamo così. Quindi c'è qualcosa ancora che non funziona nel nostro sistema, c'è qualche cosa che non funziona e dovremmo anche seleziarci sul perché. Perché cerchiamo di muovere le case? Perché se c'è questa discriminazione che non è giustificata dai numeri, non è giustificata dalla qualità del lavoro, non è giustificata dalla ragione economica, non è giustificata da nulla, vuol dire che c'è il suo problema dell'azione culturale, che non ha nessuna rispondenza nella società reale, in cui non ci dobbiamo fare l'anno, perché poi ci sta realizzando le varie definizioni e le sue varie istruzioni. Non per contare di più, ma per contare in maniera diversa, per contare in maniera diversa e dimostrare quelle toni di equilibrio a cui faceva esperimenti spessi, le loro l'hanno sempre avuto, perché per ruolo familiare l'hanno sempre avuto, la mediazione dei conflitti e infito l'essere donna, madre, compagni a vita di una persona, e quindi ci viene probabilmente molto soddisfatto cercare di mettere pazzo, cercare un punto di accorto, e però questo non ci viene consentito, non ci viene consentito formalmente. Questa era come soluzione e vogliamo passare la parola anticesimica del costituzionatore e dei partecipitati della mia gestione. Grazie.